Ancora un sit-in di protesta davanti all'emiciclo da parte dell'Unione degli Studenti Universitari dell'Aquila e Teramo e di 360 gradi di Chieti-Pescara. Oggetto ancora una volta la situazione di 2000 studenti doni ma non beneficiari di borse di studio in Abruzzo, di cui oltre 1300 a Chieti, 367 all'Aquila e circa 200 a Teramo per la mancanza di fondi regionali. Nonostante le sollecitazioni e gli appelli nulla è cambiato. 130 giorni vuol dire che gli studenti, come è accaduto negli anni passati, possono aver fatto la rinuncia agli studi. E noi siamo stupiti di come neanche l'emergenza sanitaria e sociale legata a Covid-19 abbia potuto sensibilizzare la politica regionale rispetto all'importanza di garantire il diritto allo studio. Si parla tanto di medici, infermieri, di tutti quelli che avrebbero potuto dare una mano e non si investe un centesimo per aiutarli a farlo. E questo è gravissimo. A questo si aggiunge la scadenza del 30 aprile. Per la legge nazionale, se entro il 30 la regione Abruzzo non avrà stanziato almeno il 40% di trasferimenti statali vincolati alle borse di studio, per il prossimo anno accademico 2021-2022 la regione stessa sarà penalizzata sulla prossima assegnazione, con ancora maggiori difficoltà nella copertura delle borse di studio. 130 giorni trascorsi e gli studenti sono senza strumenti per sostenere i propri studi, traffitti, materiale didattico e spese quotidiane, compreso il vitto. È un problema molto grave, soprattutto in un periodo come questo, di emergenza, gli studenti si trovano a dover pagare gli affitti, a dover pagare spesso anche gli affitti proprio per ricevere la borse di studio da fuori sede, senza avere poi la sicurezza di riceverla o meno. Quindi è un problema grave, anche perché grava su molte altre spese come quello del vitto, dove a Teramo ad esempio abbiamo tutte le mense chiuse da oltre un anno e questa è una situazione non sostenibile per molti studenti. Grazie. Grazie.